Perse la vita a 13 anni ad opera della madre, un dramma che scosse Oristano e non solo. Chiara Carta, sette mesi dalla sua morte, non è stata dimenticata dalla sua Silì, frazione di Oristano di 3000 abitanti, e domenica sarà ricordata da una santa messa. A spezzare la sua giovane vita era stata la mamma, che aveva poi tentato il suicidio. Nella chiesa parrocchiare della frazione di Oristano, dove la 13enne viveva, il padre Piero e i compaesani si uniranno in preghiera domenica prossima, 10 settembre, alle ore 18. La tragedia si era consumata lo scorso 18 febbraio, alla vigilia della grande giostra equestre di Oristano, la Sartiglia. La mamma, Monica Vinci, aveva ucciso Chiara con 30 coltellate, e aveva poi cercato di togliersi la vita, lanciandosi da una finestra del primo piano della casa dove vivevano a Silì. A provocare l'emorragia fatale a Chiara erano stati i colpi al ventre, che avevano raggiunto gli organi vitali, mentre alcune coltellate alle braccia e alle mani furono il risultato dello streno tentativo della ragazza di difendersi. La notizia della morte della giovanissima Chiara aveva suscitato grande sconcerto e dolore ad Oristano. Una grande comunità si era raccolta per i funerali nella parrocchia di San Pietro di Silì. L'arcivescovo di Oristano, padre Roberto Carboni, aveva concelebrato la messa assieme al parroco, Don Gianni Maccioni. Erano state organizzate fiaccolate e veglie di preghiera in suo ricordo. Un ricordo che il padre Piero, agente della polizia locale, molto conosciuto in città, vuole mantenere vivo e per questo invita tutti ad unirsi nella preghiera fissata per il pomeriggio di domenica, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Silì.